Saranno rinviati a dopo le festività di Natale i lavori in Corso Umberto nel centro di Pescara. La decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale per tutelare gli operatori economici. Abbiamo deciso che per il periodo natalizio Corso Umberto possa tranquillamente, parlando chiaramente col direttore dei lavori, con l'impresa che sta eseguendo i lavori, possa essere riaperta e addirittura possa essere la sede nella quale sarà ospitato il mercatino di Natale che comunque negli anni passati ha registrato un numero di presenze davvero importante. I lavori proseguiranno invece in Piazza Sacro Cuore? I lavori proseguiranno in Piazza Sacro Cuore dove sono già iniziati e stanno andando avanti in maniera spedita. Ieri abbiamo parlato anche con i commercianti che affacciano su Piazza Sacro Cuore che ci hanno ringraziato perché i lavori stanno andando in maniera spedita e noi riteniamo che poi dal 7 gennaio, quando finirà il periodo natalizio, riprenderanno in maniera massiva anche su Corso Umberto. In vista del Natale, che cosa si farà in città e qui nel centro, nel cuore della città? Sì, è un Natale scintillante dedicato chiaramente ai bambini come ormai abbiamo fatto da tanti anni. Intanto annuncio, anche grazie alla collaborazione dell'assessore Santilli e dell'assessore Albore Mascia, dal 24 di novembre accenderemo l'illuminare nel Centro Commerciale Naturale a Pescara Vecchio. Poi Pescara avrà la filodiffusione nel Centro Commerciale Naturale, avremo la pista di ghiaccio al centro della città, il 31 e l'1 avremo i grandi eventi che si svolgeranno molto probabilmente nell'area di Risulta con grandissimi concerti con artisti di livello internazionale, avremo i micro eventi a sostegno del commercio e poi concluderemo il 6 con la Befana del Vigi del Fuoco che ormai è una vera e propria tradizione per la nostra città. Inoltre, grazie anche alla collaborazione degli altri assessorati, cercheremo di organizzare eventi in tutti i quartieri di Pescara.